Paura in via Riviera Berica ieri sera per un sospetto ordigno esplosivo segnalato dai cittadini che hanno allertato la polizia. Un pacco sospetto posizionato su un monopattino elettrico che era lucchettato ad un palo, del tutto somigliante ad un ordigno esplosivo collocato sul pianale. È stato notato nella stradina che porta verso Villa La Rotonda. L'involucro di circa 40 centimetri era ben sigillato con del nastro adesivo e dei fili in evidenza. Si è trattato di un intervento che è rientrato nell'ambito del più complesso sistema di sicurezza che è stato predisposto in occasione della fiera Vicenza Oro. Proprio per questo motivo avevamo a disposizione dei reparti speciali e anche gli artificieri e a seguito di questa segnalazione ci siamo resi conto che vi era la possibilità che questo involucro potesse contenere un ordigno esplosivo. Per questo motivo abbiamo fatto intervenire gli artificieri, insomma è stata messa in sicurezza tutta la zona e poi gli artificieri hanno fatto esplodere l'involucro. La polizia è intervenuta sul posto, non essendo certa della natura e della pericolosità di quanto rinvenuto, su disposizione del questore ha attivato il nucleo artificieri di Venezia. La zona è stata isolata con delle transenne messe in sicurezza e verso le 23 con una carica esplosiva posizionata dagli artificieri l'involucro è stato fatto esplodere. Gli accertamenti per far luce sulla natura dell'involucro sono in corso da un primo esame degli esperti, tuttavia non sembrerebbe un ordigno rudimentale. Da quello che è stato possibile capire fino adesso, anche se gli accertamenti sono ancora in corso, non si trattava di un ordigno esplosivo, ma non è da escludere che potesse essere stato posizionato proprio lì con quelle modalità, con quell'aspetto esteriore, magari per effettuare un minaccio nei confronti di qualcuno. Grazie a tutti.